Siamo con il mister in seconda del Trebisaccio ma oggi il titolare, visto che Malucchi era scordicato, mister Ambrogio, una prima cosa l'ho notata osservando Malucchi dall'altra tribuna, eravate veramente in stretto contatto e il movimento di Malucchi corrispondeva il suo di movimento. Sì, è vero, oggi è stato il mio battesimo sul campo, un campo veramente difficile con una squadra ben organizzata però ecco proprio come hai detto tu, dato che noi siamo veramente a stretto contatto bastava un gesto per fare in modo che potevo dare le giuste indicazioni alla squadra, squadra che si è comportata nel migliore dei modi, molto attenta, peccato perché alla fine ci avevamo creduto e avevamo cullato ecco la possibilità di poter vincere la partita però diciamo che alla fine è un pareggio che va bene. Quello che stava dicendo appunto, la sostituzione di Zicarelli che ha tolto un po' di profondità alla squadra dovuta a motivi fisici visto che comunque il ragazzo è mancato per un po' di tempo o è stata proprio una scelta tattica visto come si sta mettendo il secondo tempo dove si erano oggettivamente ha spinto molto? No, è stato purtroppo un problema fisico, già nel primo tempo ha subito un brutto colpo all'altezza del fianco destro e quindi già nell'intervallo è stato necessario diciamo l'uso del ghiaccio. Poi alla fine onestamente c'è bisogno di gente fresca, lui dato che ha preso questa botta non riusciva a dare il 100% e quindi il mister ha deciso di mettere forze fresche in campo. La parte bianca-azzurra anche per quanto successo perché è stato un finale molto convulso e quindi ringraziamo il signor Staltari che se non sbaglio è il dirigente accompagnatore della squadra. Buonasera, grazie per essere venuto. Dunque partiamo dalla fine perché ci è stato confermato anche dalla tribuna il rigore era assolutamente netto quindi resta qualche rimpianto anche perché il secondo tempo del Sierna è stato molto molto importante. Diciamo che tutto sommato è una partita ostica dove noi diciamo che avevamo qualcosa di portata dalla partita del derby e quindi non era facile reggere e quindi il risultato tutto sommato va bene così. Anche per noi il nostro percorso proseguiamo e vediamo il futuro che possiamo fare. Certamente tra le altre cose il Trebisaccio è una squadra che già ha fatto grosse prestazioni con le grandi a questo punto cosa può servire dal mercato per far sì che Sierna possa pienamente lottare per il salto di categoria perché comunque la potenzialità c'è evidente? A noi serve solo un po' di assestamento di squadra abbiamo qualche infortunato che è basalare sul centrocampo altro speriamo un futuro migliore. Grazie a tutti.